Salve tutti amici e benvenuti in questo nuovo video, io sono Salopimpos e oggi ritorniamo su Minecraft Pocket Edition L'ultima volta abbiamo provato a fare un ponticello con i binari alimentati da quella parte dietro il drago Oggi come vi avevo anticipato faremo un passaggio da questa zona qui a praticamente l'altra isola che si trova dall'altro lato Perché ogni volta fare il giro dell'orto e attraversare il mare mi risulta un po' scomodo Quindi come mi avete suggerito nei commenti anziché fare il ponte sopraelevato lo farò sotterraneo Quindi cominciamo subito ad armarci di pala e vediamo un po' quello che succede Dunque io ho intenzione di fare i binari qua in modo tale da mettere il pulsante o direttamente qui sul legno oppure direttamente sulla pietra Vediamo, comunque la direzione è proprio questa quindi dovremo scavare da questa parte Sì qua praticamente e vediamo di non distruggere le mie coltivazioni che ho fatto con tanto amore Dunque vediamo quanto dovremmo scavare qui vediamo un po' Dunque ad un blocco c'è l'acqua al secondo blocco c'è quello che contiene l'acqua praticamente non la fa cadere Quindi al terzo blocco dovremmo poter esserci Quindi questo qua questo lo togliamo questo lo togliamo anche qui togliamo tutto e scaviamo Perfetto qua dovremmo esserci se tutto va bene Quindi qua va bene quindi aspetto un altro blocco perché deve essere altezzato altrimenti io non ci passo Quindi qua c'è l'acqua o quantomeno il contenitore che mi ferma l'acqua Qui posso scavare ma io ci devo entrare dentro non è che ci posso entrare abbassato quindi per forza due E scaviamo due perfetto credo che dovremmo esserci Se non ho sbagliato a fare qualcosa come al solito direi pure Dovremmo essere Ok qui ci saranno i binari che scenderanno E qui se tutto va bene dovrebbe essere giusto Allora io per sicurezza metterei subito un po' di terra qui Così sicuramente noi troveremo l'acqua Sicuramente entrerà quella del mare e quindi la dovremmo fermare Allora scaviamo 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 tizio Perché dobbiamo spuntare da qualche parte tizio scaviamo 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 Speriamo di non distruggere le mie coltivazioni Allora se non ho sbagliato praticamente qui dovrebbe esserci l'acqua qui sopra Quindi meglio non scavare ma mi fido delle mie intuizioni Del mio intuito Ok praticamente scaviamo da lì vera sì ma io qua devo piassare qualche torce Già non ci vedo più Poi la distruggiamo intanto mettiamola va Mettiamo le torce ok mettiamo le torcette Già si sta distruggendo la pala di legno assurdo Sta pala di legno non dura niente Dai che verrà un bellissimo tunnel Mi sto preoccupando ancora non spunto da qualche parte Ok acqua ecco qua lo sapevo Tizio Tizio chiudi il buco tizio perché qua dobbiamo vedere dove uscire Chiudi il buco è chiuso tizio Tizio hai chiuso il buco ok chiudi il buco Adesso scaviamo in alto vediamo un po' dove siamo andati a finire Tizio Eh ti pareva altra acqua vediamo un po' dove siamo qua Ok siamo proprio sbucati sotto l'acqua fantastico Allora chiudiamo sto buco e cerchiamo di non far entrare l'acqua Ok acqua via acqua Perfetto siamo praticamente accanto il pozzo di lava fantastico Allora scaviamo qua Scaviamo tizio scaviamo tizio scaviamo tizio scaviamo tizio scaviamo tizio Perché dobbiamo emergere qua da qualche parte Dobbiamo poter mettere i binari Credo che così ci basti Vediamo un po' Ok ci basta Questo lo possiamo chiudere E perfetto perfetto Qua i binari saliranno E io praticamente Spunterò qua con tutti i binari che mi porteranno dall'altro lato Quindi direi che il tunnel è bello che è fatto Vediamo un po' adesso di piazzarci i nostri binari Questa la possiamo togliere volendo Vediamo un po' come piazzare i binari Aspetta qua com'è giusto Sì sì giusto perfetto Andiamo sediamo tizio sediamo tizio Allora che cosa volevo fare Io volevo piazzarmi i binari qua così Mettere un blocco qui Non so se mettere effettivamente un blocco per una cassa Non lo so fatemi sapere voi nei commenti Vediamo Poi il pulsante lo metterei anche qui Così Effettivamente mi avete detto nei commenti Che la pietra rossa non serve Eh sì L'ho scoperto dopo purtroppo Dopo che ho fatto tutto l'impianto di pietra rossa Pazienza Ok Andiamo a mettere i nostri tutti i binari Andiamo a mettere i nostri binarozzi Vediamo se riusciamo a piazzarli così Perfetto Perfetto Ragazzi guardate che figo Oh qua non è che mi schianto io quando scendo Non è che sbatto la testa qua Aiuto Questa la possiamo togliere effettivamente Vediamo Oh c'è la terra Aspetta no forse c'è la terra No no non togliere niente tizio E qua ci crolla la tutta addosso Ci crolla Casomai scendiamo l'altro poco Vediamo Intanto posizioniamo i binari va Posizioniamo i nostri binari Forse ne ho presi pochi Devo prendere di più Vediamo tizio andiamo Prezzi Azziamo i nostri binari Piazziamo i nostri binari Non ci bastano i binari tizio Forse secondo me dobbiamo andargli a moltiplicare Visto che stiamo facendo tutto questo Cerchiamo di andargli a moltiplicare Perché qua io non voglio rimanere senza binari Ok Adesso qui lo dobbiamo continuare Allora io direi a questo punto Di andarmi a moltiplicare un po' di binari Visto che ne ho presi pochi Per chi ancora non l'ha visto Vi faccio vedere la mia farm di binari Fichissima Così vi rinfrescate un po' le idee Ancora qui devo aggiornare La casa delle iscritte a 4000 Ragazzi vi ringrazio veramente tantissimo Quindi andiamo a vedere La nostra farm di binari Qua devo aggiustarlo tutto Fa schifo veramente Dove aggiustarlo tutto Ok Attiviamo qua la nostra farm di binarozzi Mettiamoci i binarozzi Facciamo un po' di binarozzi Via che ci servono come un domani Come un domani però No come se non ci fosse un domani Ci servono come un domani Non come oggi Come un domani Ragazzi abbiate pazienza C'è caldo Sono stanco Ogni tanto ci sta Ok ci bastano tutti questi binari qua Penso di sì Ne abbiamo 63 64 A voglia A voglia Qua ne abbiamo recuperati nella cassa No niente Ne abbiamo 65 Mia voglia Perfetto La mia farm funziona fighissimamente Ok andiamoci di nuovo lì Facciamoci una bella nuotata tizio Tizio però un po' più veloce a nuotare Fatti un corso di nuoto Quando devi fare queste cose Piazziamo il nostro legnetto E andiamo a farci il ponticello di legno Non ho capito perché in questa versione Da 1.09 Praticamente c'è un bug qui nell'inventario Come potete vedere ho tre carrelli Cioè Cioè Quando invece ne ho uno No ma tizio Ho un carrello Ma qui me ne segnala tre Non capisco perché C'è un bug nell'inventario Devo ancora aggiornarlo E vediamo se si risolve sta cosa Quindi mettiamo qua Allora questo qui Questo qui Altri binari alimentati Altri binarotti alimentati qua Uno qui E' perfettissimo Mettiamo questo Proprio costeggiamo Il molo di barche Fantastico Aspetta ma io se devo uscire con la barca Come faccio poi Ma io mi sono chiuso Che faccio ora con le barche Faccio il giro vediamo Esco di là Dovevo aprire quella zona Oppure Già che ci sono Farei un ponticello Dove passare con le barche Perché il lavoro Io lo faccio così Aspetta facciamo un ponticello Per le barche Fighissimo E' un'idea bellissima Secondo me Allora Iniziamo da qua Facciamo un ponticello così Questo lo distruggiamo Intanto Questo lo allunghiamo In questo modo Fantastico Vediamo dove andare Ah praticamente è lì Niente Andiamo fino a lì Andiamo Così con le barche io posso passare Altrimenti come passavo Poi con le barche Ma perché non le uso spesso Ma Oh Le abbiamo fatte Che fa? Le annulliamo per un ponte di binarie Intanto devo andare a dormire Come al solito E dove dormo Aspetta vado a dormire Sopra il faro Dovrebbe esserci un lettino Ma qua lo devi illuminare di più però Che cacchio di faro è Se non illumina niente Ok Qua è bello illuminare Fai fantastico il mio lettino Ancora qui Dormiamo tizio Così vi faccio vedere ragazzi Tutte le mie costruzioni Che ho fatto nel tempo Se ve le siete perse Questo è il mio bellissimo faro Per le barche Ok Ricendiamo di nuovo Qua dove effettivamente Metterci qualche torcetta in più Perché la salita è brutta E' oscura Troppo Troppo al buio Questo legno qui sotto Lo togliamo tutto Ovviamente Mettiamo un altro blocchetto qui Va bene Un altro qui Un altro qui Un altro qui E direi di chiuderla Anche qui Volendo Allora qua Ce ne mettiamo un altro Solo per decorazione Questo lo togliamo Via tizio Togliamo qui Perché scenderemo Proprio da qui Con i binari Legno Legno E qui Atterriamo Con il nostro binario Con il nostro carrellino Quindi Andiamo a posizionarci Tutto questo bellissimo binario Di qua Fantastico Fantastici Aspetta no Forse un altro Ne dobbiamo fare tizio Tizio un altro blocco Che qua Troppo impennata Ci catapultiamo Tizio da qua Ok blocchetto qui Binario qui E blocchetto qui Adesso si Adesso si tizio Mettiamo i nostri binarozzi Mettiamo Andiamo 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 Mettere i nostri binarozzi Perfetto Binarozzi Ora E quando mai E quando mai Cioè ma ogni video che faccio Deve piovere su minecraft E per male sta cosa Guardate che bello Il mio ponticello Poco fa non potevo più passare Nemmeno con le barche La cosa non mi piaceva tanto Ok Adesso che è completato Intanto dobbiamo mettere il pulsante lì Ma intanto Ci mettiamo la pietra rossa Qui Come al solito Dobbiamo contare Nove blocchi Questi li saltiamo Quindi Due Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Mi viene un po' difficile Sei Sette Otto E nove Qua Va bene Quindi scaviamo qua E mettiamoci una torcetta Via di torcette di pietra rossa Ok Vediamo se alimenta effettivamente Fino a lì Perfettissimo Grandioso E andiamo ancora da questa parte Andiamo ad alimentare gli altri binarozzi Ci piazziamo un blocchetto qui E ci mettiamo la torcetta qui Va benissimo Alimentiamo questo Mettiamoci la pietra rossina qui E vediamo dove andiamo a finire Andiamo a finire Ah Peccato per uno Per uno Aspetta 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 Dobbiamo spostare la nostra pietruzza rossa Mettiamola qua Questa la togliamo Questo legno Lo togliamo Via che adesso Precipitiamo nell'acqua Ci facciamo un bagnetto Sbagged Qua ci mettiamo Il pilastro per il pulsante Voglio dire Qua ci mettiamo Un altro pilastrozzo Ci lo mettiamo E il pulsante Lo mettiamo qui Adesso vediamo se effettivamente funziona Mettiamo il carrellino Qua Carrellino Ok Ne ho uno Non me ne dare tre Ne ho uno carrellino Saliamo nel nostro carrellino E facciamoci il giretto Via E non parte Allora Aspetta Forse dobbiamo Scendiamo tizio Allora dobbiamo abbassare il pulsante Troppo in alto Credo che sia troppo in alto Quindi Distruggiamo il pulsante Mettiamolo qua Vediamo forse così Vediamo se parte Poi me la faccio a piedi Ok così Poi me la faccio a piedi Giusto tizio Ma perché 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 Ok Me la faccio a piedi Tranquilli Tranquilli Attraverso a piedi Arrivato il carrello Mi fa piacere Veramente Veramente Allora saliamo Saliamo tizio Sali senza farlo partire Tizio Tizio senza fare partire Il carrello Tizio dobbiamo salire Oh Pulsantino qui Via di giretto Passa Passa perfettamente Ma guardate che figo E premiamo qua E ce ne ritorniamo a casina Ragazzi Ma guardate che figo Certe volte sono veramente Sterrefatto delle mie costruzioni E qua Quando voglio prendere la mia barca Mi prendo la barca Vado a fare un giro in barca Andiamo tizio Andiamoci a fare un giretto in barca Via E possiamo giustamente Passarci sotto Perché come era Come lo stavo facendo Praticamente Non ci potevo più passare Con le barche Andiamo a posare la barca Via Che qui le barche costano Tantissimo Scendiamo La mia mucca è sempre lì Ciao mucca carolina Ciao Non prende troppo Troppa pioggia Che poi ti raffreddi E quindi ragazzi Il mio ponticello È bello che è fatto Quindi se vi è piaciuto Lasciate mi raccomando Tanti like Ricordate di poter seguirmi Anche sulla pagina Facebook Twitter Instagram Tutte le reti social De cui ottenete il link In descrizione Iscrivetevi al canale E per oggi è tutto Al prossimo video Oggi ritorniamo Sul tartaruga ninja Leggende Ho notato che Mi mancano Diverse cose Ancora da fare Tra cui Tra cui I capitoli 6 e 7 E le modalità difficili E le modalità difficili